buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi ho questo piatto favoloso di bugie davanti perché voglio realizzare il tutorial e farvi vedere come faccio io a fare le bugie quindi la mia ricetta andiamo subito nella mia cucina ingredienti per le bugie cotte al forno sono 150 grammi di farina mezzo cucchiaio di zucchero di canna 25 grammi di olio di semi un cucchiaio di cannella oppure aroma al limone un cucchiaio di lievito per dolci un uovo la prima cosa da fare è unire mezzo cucchiaio di zucchero di canna a un uovo mescoliamo insieme uovo e zucchero di canna aggiungo adesso la farina aggiungo anche il mezzo cucchiaio di lievito per dolci mescolo fino ad ottenere un impasto omogeneo prima di compattare tutto l'impasto vado ad aggiungere l'aroma al limone se volete potete mettere anche della cannella io in questo caso ho scelto l'aroma al limone e mescolo finché l'impasto non sarà ben compatto adesso che avrete ottenuto un impasto di questa consistenza potete andare a stenderlo con un mattarello per andare a formare le singole bugie quindi infarinate il piano di lavoro prendete il mattarello e andate a stendere il vostro impasto potete anche scegliere di stenderlo un poco alla volta come volete adesso che ho ottenuto un impasto piuttosto sottile vado a formare le singole bugie quindi vi basterà semplicemente fare delle strisce con una rotellina come questa se non l'avete potete anche farle dritte con il coltello fate delle strisce più o meno di questa larghezza così e poi andate a formare le singole bugie quindi le tagliate in questo modo potete farle più o meno lunghe a seconda della preferenza e dovrete con la rotellina andare a fare un taglio al centro lasciando i bordi sopra e sotto chiusi ovviamente fate questo lavoro poi una volta che avrete la bugia fatta così in questo modo con l'apertura centrale potrete andare a dare una forma potete lasciarle così se volete oppure andate a ripiegare la parte superiore dentro così in questo modo in modo da ottenere questo potete farlo anche dall'altra parte se volete e andrete ad ottenere una cosa di questo genere il procedimento è uguale per tutte le bugie quindi andate a prendere sempre la parte del lato esterno e la ripiegate verso l'interno e poi anche dall'altra parte prendete la parte esterna e la ripiegate verso l'interno in modo da ottenere una cosa di questo genere andate avanti così fino ad ottenere il numero di bugie desiderato quando avrete fatto il numero di bugie che desiderate dovrete andare a metterle in forno ventilato a 180 gradi per circa 15 20 minuti perché sono molto sottili quindi fate attenzione che non si bruci noi valutate sempre il vostro forno ci vediamo dopo per il risultato questo è il risultato delle bugie cotte al forno adesso non dovrete far altro che andare a cospargerle di zucchero a velo dopo che avrete messo tutto lo zucchero a velo sulle vostre bugie potrete trasferirle in un piatto da portata e gustarle questo è il risultato finale queste sono le bugie cotte al forno cosparse di zucchero a velo vi assicuro che sono molto buone molto croccanti io vi invito a scrivermi nei commenti se anche voi preparate le bugie per il periodo di carnevale vi do appuntamento al prossimo video se vi fa piacere iscrivervi al canale mettete un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima un bacio enorme